La ripresa economica spagnola comincia ad ingranare. Secondo le stime del Banco de España, il prodotto interno lordo del paese iberico sarebbe cresciuto dello 0,4% rispetto al quarto trimestre. Dati in linea con il miglioramento del mercato del lavoro, dei consumi e della produzione, spiega la Banca Centrale, e che lasciano ben sperare a fronte di un target dell'1,2% per l'intero 2014. La rinascita della fiducia è accompagnata anche dal ritorno in massa degli investitori. Giovedì il Tesoro di Madrid ha collocato 5,6 miliardi di euro di titoli di Stato a scadenza medio-lunga, con rendimenti ai minimi storici.